ciao a tutti è un piacere essere qui con voi per chi non mi conosce il mio nome rossella pani e oggi faremo una lettura angelica valida per una settimana dal momento in cui la state guardando utilizzeremo tre mazzi di carte e suddivideremo la lettura in gruppo a gruppo b e gruppo c chiedete durante la preghiera di protezione vostri angeli all'arcangelo michele qual è il gruppo di appartenenza più giusto per voi potrebbe essere solo uno due o tutti e tre dipende da quello che voi sentite ascoltate il vostro istinto il vostro sentire che vi porta a guida ed assistenza bene iniziamo con la preghiera invoco la divina presenza di dio dio onnipotente padre madre i miei angeli custodi il mio sé superiore gli angeli custodi il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore mi seguono invoco te arcangelo michele maestro gesù maria regina celeste coscienza micaelica e con amore vero puro e sincero vi chiedo di tagliare tutte le corde goiche di paura tra me e tutte le persone coinvolte che riguardano questa vita sulla terra le altre vite in tutti i sistemi di realtà in tutte le dimensioni e in tutte le direzioni del tempo spazio arcangelo michele ti chiedo di purificare la nostra energia le nostre intenzioni parole ed azioni con amore ti chiedo di radicare la nostra energia fino al centro della madre terra e di creare uno scudo di protezione completo dentro di noi intorno a noi nel luogo in cui ci troviamo affinché possa entrare solo la luce l'amore più puro e vero di dio dio onnipotente padre e madre chiedo massima protezione psichica guida ed assistenza grazie caro dio grazie arcangelo michele grazie al maestro gesù grazie coscienza michaeli è fatto è fatto è fatto e così è così sia ora per sempre per l'eternità ok iniziamo a mischiare le carte vediamo cosa gli angeli michele hanno da dirci allora gruppo a ok consapevolezza va bene vediamo un po gruppo b gruppo b innocenza vediamo il gruppo c eccola qua immaginazione vediamo le carte dell'arcangelo michele è caduta una carta gruppo a senso dell'umorismo gruppo b gli angeli del cuore ti stanno aiutando vediamo un po gruppo c vai avanti senza paura vediamo un po terzo mazzo gruppo a mi raccomando prendi controllo dei tuoi pensieri ok gruppo b eccola qui è caduta ci sono delle profonde intuizioni che stanno arrivando va bene bene interessante il gruppo b vediamo il gruppo c eccola qui è spuntata ok continua ad andare nella direzione che stai percorrendo è interessante perché in due mazzi diversi per il gruppo c lo stesso messaggio ok allora c'è bisogno di consapevolezza c'è bisogno di concentrarti sulle tue capacità i tuoi talenti c'è bisogno di focalizzati per il gruppo a sul tuo momento presente va bene si consapevole di quelli che sono i tuoi pensieri pensa che anche per il gruppo a due carte diverse portano lo stesso messaggio i tuoi pensieri creano la tua realtà lascia andare pensieri negativi e distruttivi e cerca di di associare i tuoi pensieri di pensieri di associare emozioni positive nella direzione giusta non ti puoi permettere di vivere nella 3d con la consapevolezza di una persona non risvegliata in quanto tu sei un'anima in cammino sei un'anima evoluta sei un'anima in risveglio quindi per piacere prendi consapevolezza di chi tu sei veramente nella tua completezza e totalità e per prendere guida e assistenza cioè per capire in che direzione stai andando fai attenzione ai segni divini che gli angeli l'arcangelo michele ti stanno mandando non prendere tutto sul serio esci dal controllo cerca un pochino di sdrammatizzare un po di senso dell'umorismo ci vuole non vedere tutto negativo cerca di vedere il bello le cose si grato per tutto ciò che ha intorno tutto ciò che di positivo c'è dentro di te intorno a te perché veramente se un'anima è voluta non ti puoi permettere di vivere come un'anima dormiente va bene i tuoi pensieri stanno creando la tua realtà quindi prendi consapevolezza dei tuoi pensieri cerca di focalizzarti sul risultato sul risultato finale su quello che tu vuoi manifestare su quello che tu vuoi raggiungere e tutto si allinea nella direzione giusta ok bene gruppo b assolutamente tu sei un'anima innocente il tuo bambino interiore ti sta guidando nella direzione della gioia dell'amore dell'abbondanza cerca di nutrire il tuo bambino interiore un po giocando alla vita esce a fare una passeggiata una una gita in bici vai a fare vai al mare vai in montagna hai bisogno di connetterti un pochino con la natura di giocare un po alla vita veramente perché la vita ti sta portando cose nuove stanno entrando cose nuove nella tua vita va bene per quanto riguarda l'amore le energie si stanno allineando gli angeli che si occupano appunto di di nutrire un amore già presente o di far nascere un amore prossimo futuro si stanno impegnando per aiutarti in questa direzione quindi assolutamente fidati della tua intuizione fidati di chi tu sei veramente perché tutto si sta allineando nella direzione giusta i tuoi desideri si stanno per manifestare va bene diciamo che prima di agire in una certa direzione sei un attimino invitato a meditare ad ascoltare le tue intuizioni le tue capacità intuitive ma per fare questo devi uscire dal caos dalla mente devi entrare nel cuore quindi un po di meditazione di preghiera e di ritiro ti aiutano poi a ad avere le intuizioni giuste per agire nella direzione giusta non agire di getto non farlo non farlo seguito dalla energia di paura ma deve essere l'amore a guidarti ok bene gruppo c entrambe due carte portano lo stesso messaggio vai avanti a non fermarti vai nella direzione che stai la direzione stai percorrendo è giusta vai avanti a non avere paura va bene non c'è niente di negativo nel tuo cammino ci sono solo state delle battute di arresto provvisorie ma vai avanti perché tutta l'energia sta iniziando a fluire liberamente diciamo che devi imparare dalle esperienze passate e vai avanti non fermarti perché grandi cose stanno arrivando nella tua vita ok assolutamente una nuova realtà si sta manifestando datti il permesso di sognare e abbi fiducia che infinite possibilità si stanno manifestando davanti a te quindi assolutamente sogna in grande pensa in grande anche tu pensieri positive emozioni positive azione nella direzione che stai percorrendo e tutto andrà per il verso giusto ok bene anime infinite spero che abbiate passato insomma un buon ferragosto ancora l'estate non è finita ci sono tante belle giornate davanti a noi quindi approfittiamone per andare nella natura immergerci nella natura connetterci con con gli angeli ascoltare la nostra anima goderci queste giornate meravigliose c'è meno caldo quindi insomma eh non è più quel caldo affoso perlomeno parlo qui in Sardegna eh godiamoci queste giornate meravigliose ehm andiamo avanti seguendo sempre l'anima seguendo la direzione dell'amore seguendo la direzione del nostro scopo nella vita io vi auguro una settimana meravigliosa un abbraccio a presto ciao 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 ciao